Quando siamo al limite dell'aria facciamo protezione palla e scarichiamo dietro per il tiro suo Che si propone sempre bene Però la punizione dovevamo metterla dentro Ci hai tirato troppo o lenta? Era bella se non ho trovato in testa Forse era meglio Ragazzi, occhio ai primi 10 minuti Vai ragazzi! Fermatemi qua! Cosa è cazzo? 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 Perché non vogliono Non vogliono Ma ci sta fuori Ci sta fuori Cerchiamo di fare il quarto gol E piuttosto di non prenderlo Ok? Cerchiamo di amministrare anche la partita Qualche sciuffolata in là Vadavanti va bene